Musica Chi controlla in Italia e nel mondo il business degli armamenti? Attraverso quali strade consolidate si snoda e chi ne trae vantaggio? Quale legame esiste tra la fabbrica lombarda di elicotteri Augusta e l'accampamento in Turchia del Partito Ribelle Curdo, che potrebbe essere attaccato con elicotteri Mangusta? Come possiamo valutare dai italiani gli scontri in piazza Terir al Cairo e le rivolte iemenite, condotte con armi leggere e prodotte nel nostro paese, o le recentissime vendite al regime siriano dei sistemi di controllo interno, fatturato da nostre aziende? Come e perché pistole made in Italy sono finite nelle mani di formazioni armate irachene che sparavano contro i nostri soldati? E continuando forse su un livello ancora più importante, come mai in un'epoca di crisi e di tagli pesanti allo stato sociale e servizi alla cittadinanza non c'è un dibattito forte, serio e aperto sull'opportunità o meno di spendere miliardi di euro in nuovi armamenti? I media usano le parole pace e guerra solo per descrivere l'eventualità di un conflitto o il tipo di intervento da adottare in aree problematiche del mondo. Ma le scelte di guerra continuano in silenzio anche in tempo di relativa pace, quando si portano avanti investimenti e operazioni di appoggio alla filiera industriale militare, solo per garantire profitti fiorenti a un ristretto gruppo di persone. Se è necessario un cambio di senso e di prospettiva politica per arrivare a costruire la pace dopo aver ripudiato la guerra, quali sono le scelte iniziali e immediate da mettere in pratica? Il primo passo verso il cambiamento consisterebbe nel reindirezzare le copiose risorse dedicate all'ambito militare verso investimenti civili, sviluppo, crescita culturale, istruzione e miglioramento delle condizioni sanitarie a favore di ampie fasce della popolazione mondiale. Una riconversione che andrebbe realizzata in modo graduale per ricollocare i lavoratori del settore militare e gli stessi appartenenti alle forze armate. Gli Stati Uniti, la Russia e otto paesi europei hanno fornito grandi quantità di armi a governi repressivi in Medio Oriente e in Nord Africa. Armi utilizzate per reprimere nel sangue le rivolte che si sono succedute nella primavera araba del 2011. La responsabilità delle azioni violente contro i manifestanti è chiaramente dei singoli governi, ma c'è anche quella di chi ha armato questi regimi, nonostante il rischio di gravi violazioni di diritti umani. Il rapporto di Amnesty International rileva che le armi provenivano da diversi paesi occidentali, tra cui l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti. I governi che ora esprimono solidarietà e rammarico per le uccisioni in tanti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono gli stessi che hanno fornito i proiettili, le pistole, i fucili e le attrezzature utilizzate per uccidere, ferire e detenere arbitrariamente migliaia di manifestanti pacifici in Stati come la Tunisia e l'Egitto. Secondo voci autorevoli, tra cui il settimanale tedesco Die Zeit, la cancelliera Angela Merkel, inflessibili con i greci sui tagli alla spesa pubblica, avrebbe graziato il comparto della difesa, probabilmente per salvaguardare gli interessi di società tedesche e fornitrici di armamenti. Eppure si tratta di un'area di spesa pubblica che ha scarsa incidenza nel rilancio dell'economia nazionale ellenica. Non è certo nelle spese militari che si nasconde la causa dell'enorme in debito greco, ma è difficile accettare che le forze armate e di conseguenza i produttori europei di armi non si sobarchino alla stessa dose di sacrifici imposta alla popolazione civile. Il business armato gode di un potere immenso e di innumerevole protezioni. Lo si coglie soprattutto se si considera che a ricevere i bonifici di Atene sono in gran parte gli stessi paesi che chiedono alla Grecia di stringere immediatamente le cinghia per risanare il bilancio. Che cosa si potrebbe fare di utile in Italia con il budget del comparto della difesa, pari a 23 miliardi nel 2012? In questi tempi di crisi basta guardarsi intorno per scoprire che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si potrebbero per esempio reperire le risorse necessarie per assicurare una forma di tutela agli esodati, cioè ai lavoratori rimasti senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza pensione a causa delle norme sulla previdenza introdotte dal governo Monti. Si potrebbero alleggerire i tagli agli enti locali, che incideranno sulla disponibilità e sulla qualità dei servizi al cittadino. Si potrebbero riscattare le ipoteche dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata per metterle a disposizione della collettività. Si potrebbero ripristinare i finanziamenti statali al trasporto ferroviario e regionale o rimpinguare il Fondo per le politiche sociali, che comprende le risorse a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, delle politiche giovanili, dei malati e degli anziani non autosufficienti, delle politiche per la famiglia e per le pari opportunità, sceso da 1,59 miliardi di euro nel 2007 a 144 milioni nel 2013. Tutti questi investimenti contribuirebbero a migliorare la qualità della vita di ciascun cittadino di questo Paese. Invece, preferiamo continuare a costruire e comprare armi, nell'errata convinzione che servono almeno a contrastare un'altra piaga del nostro tempo, quella della disoccupazione. Grazie a tutti!